Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Roma prudenza per la presenza di personale su strada tra il bivio A1 variante di Valico e Badia. Personale su strada anche in FIPILI tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione a Livorno. Sul raccordo autostradale Sina Firenze in entrambe le direzioni restringimento di carreggiata con doppio senso di circolazione in carreggiata ovest all'altezza di Poggi Bonsi. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori fino a oggi chiuso lo svincolo di Sinalunga in entrata e in uscita in direzione Siena. A Firenze nel viale Machiavelli possibili disagi alla circolazione per restringimento di carreggiata con senso unico alternato all'incrocio con via del Bobolino. Per mal tempo sospesa la partenza delle 8.40 dell'aliscafo Toremar da Piombino verso Cavo nell'Elba. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con la regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!